Si è chiusa una consigliatura, però lei nell'ultima riunione del Consiglio Comunale ha portato all'attenzione dell'Assise il tema di questa pubblicazione che è stata voluta dall'amministrazione, credo in primis dal Sindaco, spesi più o meno 74 mila euro. Sì, circa 74 mila euro di soldi pubblici per la campagna elettorale di fatto, perché molti cittadini hanno ricevuto un libello nel periodo del Covid, da altri hanno ricevuto il librone, soprattutto le associazioni, patinato con belle foto, bene, quello è il bilancio di mandato a carico dei cittadini retini, quindi propaganda di fatto elettorale per Ghinelli in primis e per la sua giunta a carico dei cittadini. Questa è una cosa molto grave, perché una cosa è fare un bilancio sociale dove si valuta effettivamente, indipendentemente dal Sindaco, l'impatto delle scelte fatte per una città, un'altra cosa è fare propaganda elettorale. Il Sindaco ha visto bene di chiudere il suo mandato con questa spesa pubblica in un periodo, tra l'altro, di difficoltà economiche per tutti. Io l'ho denunciato e io farò tra pochi minuti il mio bilancio di mandato a costo zero, anzi un piccolo costo per il grafico che mi ha aiutato, totalmente a carico mio. Quindi io credo che il Sindaco, se voleva fare un servizio alla città, l'avrebbe dovuto fare a carico suo, come qualunque politico in questo momento sta facendo campagna elettorale lo fa con i propri soldi. Ecco, quindi un bilancio di mandato che però il Sindaco ad esempio ci dice è una cosa doverosa che si deve fare, è qualcosa che comunque tutti i sindaci uscenti fanno, si può fare in tante maniere? Si può fare in tante maniere, mi faccio degli esempi di altri sindaci che l'hanno fatto con questa spesa pubblica, non mi risulta quantomeno in Toscana, poi in altre regioni non lo so, si può fare online per esempio, quindi può avere meno costo e come dicevo prima si può fare un bilancio sociale che non è le foto dei tagli dei nastri, e la promozione delle iniziative fatte, ma è proprio un bilancio sugli impatti che sui livelli di povertà, l'incremento, la diminuzione dell'inquinamento, quindi un bilancio che valuta non la bella faccia del Sindaco nelle conferenze stampa, ma valuta l'impatto di alcune sue politiche. Non è questo il livello di Ghinelli, che tra l'altro nelle foto che ho messo si vede che ci sono anche dei cartoni ancora abbandonati nei fondi del Comune, quindi anche su questo un po' di spreco di carte in un periodo come questo poteva essere evitato. Che mandato è stato per lei? Un mandato completamente fallimentare, ma è facile che lo dica io, che sono sempre stato con valori e proposte politiche radicalmente diverse da quelli di Ghinelli e del centro-destra, ma ancora più pesante quando ci accorgiamo che lo dicono anche i suoi lettori, pezzi della sua coalizione se ne sono andati, Gamurrine e Comanducci, due assessori principali oggettivamente di questa amministrazione, anche più gravi, sicuramente Comanducci lo è stato, se ne vanno. Uno dei fondatori del suo movimento si candida al Sindaco da sé, direi una maggioranza che non esiste più, una maggioranza che si regge sulla figura del Sindaco e sulla sua effettiva Vice-Sindaca, Lucia Tanti, e uno zero assoluto su tutto. L'unica cosa che posso riconoscere a questa amministrazione è l'attività di promozione turistica, ma l'assessore se ne è andato proprio pochi mesi fa e mi sembra non così convinto di sostenerlo, quindi una bocciatura non da parte del consigliere Romizzi, non da parte del centro-sinistra, ma una bocciatura che secondo me arriverà dalla città di Arezzo, anche dai suoi lettori, delusi del suo non intervento su nessuno dei settori sui quali aveva puntato, penso alla sicurezza e al degrado in primis.